ciao amici sono fabio e oggi sono qui non per fare una delle mie solite recensioni quasi imparziali da negoziante ma per fare una darvi una mia opinione molto molto di parte perché il prodotto che vi vado a mostrare oggi che è il libro carp revelation è un libro scritto da mio caro e vecchio amico ormai ci conosciamo da tantissimi anni e questo mio caro vecchio amico è leon ogendike o ogendike nemmeno lui in realtà sa esattamente come si pronuncia il suo nome perché oggi un libro perché ci sono delle cose ancora più utili delle attrezzature da pesca se si vuole imparare come catturare un pesce crediateci o no è proprio così e esistono delle cose diciamo che il problema è che se vuoi catturare un pesce effettivamente devi informarti su come questo pesce si comporta e su quale strategia utilizzare per cercare di ingannarlo non è semplice perché questa cosa deriva dall'esperienza e l'esperienza richiede molto tempo ovviamente chi vuole iniziare a pescare vuole approfondire l'argomento ha bisogno di trovare delle informazioni e dove troviamo le informazioni quest'oggi su internet interessante sì c'è molto su internet interessante ma diciamo che per il 99 per cento ci sono informazioni molto superficiali e poco organizzate per cui si impara un po pochino diciamoci la verità da facebook o da internet tranne rari casi esistono questo la carta stampata sembra una cosa che ormai è andata infatti il libro è una cosa particolare non puoi non posso ingrandire questa immagine non posso scorrerla non posso taggare i miei amici pensate un po e quindi è un sistema molto molto preistorico però devo dire che anche il mio sistema preferito con il quale acquisire delle informazioni questo libro in questo questo tavolo c'è il libro che voglio mostrare e alcuni dei precedenti libri di leon il libro che uscì più di 15 anni fa e che fu uno dei più grandi successi editoriali nel mondo del carfishing fu questo carp revelation che è un libro molto rivoluzionario molto critico molto forte diciamo perché aveva un tono molto libero non è un libro sponsorizzato non è un libro è un libro che parlava di pesca applicata questa è la prima edizione che conservo con grande cura ed amor questa è la seconda edizione che conservo con altrettanto rispetto poi ci fu un libro che fu carp specimen che era un bellissimo libro dove si parlava in particolare di pescatori e catture qui ad esempio vedete il grande sandro di cesare e qui sotto ad esempio il buon vecchio sergio tomasella ma è un libro un po particolare non parlava molto di tecnica effettivamente fino a che arriviamo a questo carp revelation che è la riedizione 15 anni dopo del libro precedente ve lo consiglio caldamente perché innanzitutto perché lo conosco a fondo avendo partecipato insieme a fabio geratana alla traduzione l'impaginazione e alla cura della versione italiana di questo libro è un bellissimo libro di oltre 300 pagine che parla di moltissimi argomenti parla delle esche da carpa ma soprattutto soprattutto dopo il primo capitolo arrivano le cose belle perché inizia a parlare del comportamento dello stile di vita delle carpe nella loro stagionalità anche è un libro con moltissime immagini di di qualità stampato a colori su una carta di qualità per l'appunto prima poi parla delle stagioni di tutto l'aspetto meteorologico parla delle strategie di pesca parla dei mesi uno uno per uno delle strategie di pasturazione come si diceva per l'appunto un attimo fa ci sono un'infinità di informazioni che a tirarle fuori per esperienza servono decenni questi sono 30 anni di pesca applicata portati in un libro parla poi anche di aspetti molto tecnici come la realizzazione dei terminali delle montature è un libro a 360 gradi su tutto quello che serve sapere e inoltre è molto imparziale parla dei prodotti che lui utilizza siano essi dei prodotti a suo marchio così come possono essere adesso troverò una pagina in cui ci sia qualche esempio dei prodotti di marche che sono popolari anche sui concorrenti qui ad esempio sono i prodotti di corda o di nesh leone è sempre stato un pescatore che non ha mai voluto essere eccessivamente sponsorizzante o sponsorizzato e qui vi dico ha buttato quasi tutto il suo diciamo tutto dai il suo sapere di pescatore per cui non posso fare altro che consigliarvelo sono i qualche decina di euro tra le meglio spese che potete fare per aumentare il vostro sapere in pesca si va fino a parlare anche di modalità di uso di escoscandagli moderni e quant'altro cosa posso fare se non consigliarvelo questo è un libro che a prescindere dal vostro livello di conoscenza della pesca vi può sicuramente dare degli spunti interessanti vi può dare delle idee nuove per come affrontare le sessioni di pesca e di sicuro sarà una piacevole una piacevole lettura da fare in sedia di fronte a un lago a un fiume detto questo vi invito a iscrivervi al canale youtube cliccare il link qui sotto per vedere effettivamente qual è il costo aggiornato di questo libro l'edizione è limitata per cui non sarà disponibile per sempre i primi tre libri che vi ho fatto vedere non esistono più non sono più reperibili e me li avranno chiesti un milione di volte ma quelle sono le mie copie non sono in vendita questo ancora esiste quindi fin che ce ne sono e ne sono stati già venduti più di metà di tutta quanta l'edizione prevista forever approfittatene perché è un bella cosa per sé è un bel ragallo da fare un amico carpista ciao a tutti quanti e alla prossima